Ciao a tutti, allora mi tocca fare questa punizione purtroppo perché ho perso alquizzone devo fare una ricetta a base di XCOM mischiando i componenti per i componenti abbiamo purtroppo mischiato tutti quanti i token di cartone di XCOM se li avete disponibili meglio aggiungere anche un po' di espansione tutte le minature di XCOM poi aggiungiamo, e già così sarebbe una ricetta perfetta perché è un gioco perfetto aggiungiamo poi un poco di dadi da Roll for the Galaxy perché di dadi non ce ne sono mai abbastanza aggiungiamo anche un poco di vino da Concordia perché il vino poi aiuta la discussione a tavola e visto che fa bene mettiamo anche un po' di ferro da Ares Expedition Terraform Mars Ares Expedition allora, versiamo il contenuto delle miniature di XCOM versiamo il contenuto dei token in cartone di XCOM aggiungiamo un pizzico abbondante di dadini da Roll for the Galaxy mettiamone anche un po' di più due, massimo tre token se siete degli ubriaconi di vino da Concordia due, tre pezzettini di ferro da Ares Expedition mettete tutto quanto a fuoco lento di turno di guardia per il tempo di una Kessitra di Galaxy Dragon cotto e giocato grazie a tutti Grazie a tutti.